Ventilatori polmonari donati da Confindustria Chieti Pescara alla terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santo Spirito. La donazione dei macchinari del valore complessivo di 100.000 euro è un importante gesto di solidarietà nei confronti del reparto diretto dalla dottoressa Susanna Di Valerio. Si tratta di tre ventilatori polmonari neonatali di ultima generazione per i neonati prematuri o con patologia respiratoria. Sono apparecchiature all'avanguardia dotate di una serie di funzioni e di accessori che ne rendono funzionale l'utilizzo per il personale medico ed infermieristico. È una donazione che ci riempie di orgoglio, riempie di orgoglio tutte le aziende associate di Confindustria Chieti Pescara perché come dicevo anche prima la donazione è qualcosa che piace più a chi la fa che a chi la riceve, nel senso che è un qualcosa di veramente voluto e grazie ripeto alla generosità siamo riusciti non solo a fare questa donazione, ne abbiamo fatti diverse, noi abbiamo raccolto circa 270.000 euro con un fondo di solidarietà che abbiamo istituito all'indomani del Covid e abbiamo distribuito quindi questa raccolta di fondi non solo all'ASL di Pescara ma anche all'ASL di Lanciano Vasto Chieti, alla Caritas, insomma abbiamo cercato di allargare quanto più possibile poi anche ad altre strutture. È una donazione che veramente migliora quelle che sono le performance assistenziali soprattutto in questo momento storico dove la bronchiolite da virus respiratorio sensiziale è diventata pandemica in tutta Italia, ci sono neonatologie e pediatrie d'Italia in sofferenza. Quindi veramente noi ringraziamo tantissimo Confindustria per questo dono che ci aiuterà moltissimo in questo momento di pandemia da bronchiolite.